signori buongiorno questa mattina l'obiettivo è uno solo non abbuffarmi assolutamente ma cercare di assaggiare quante più specialità quanti più prodotti tipici quante più particolarità che solo questa città ha da offrire la prima tappa è quello di assaggiare i veri fiocchi di neve di poppella e noi adesso siamo diretti proprio verso poppella e voi verrete con noi grazie grazie il fiocco di neve di poppella al pistacchio tanto dio stiamo sentendo il sarchiappone che cos'è un'acqua frizzante e granita acqua frizzante e granita che dovrebbe essere più sbilanciata verso l'acqua e dovrebbe toglierti la sete tutti i limoni l'ha staccati dall'albero suo senti che profumo che hanno nonostante sia il traffico pazzesco l'ho convinto loro ci accompagneranno nel nostro tour sono le due indicativamente si è fatta ora di pranzo dolci non ci vanno più e ho avuto la brillante idea di chiedere a un tassista che mi consigliasse un buon posto dove mangiare una buona bufala e adesso siamo qua 50 calò 50 calò no no visto che è tre giorni che stiamo facendo pizza adesso facciamo un crissi una carrellata un po tutto di crocchè frittatini antipasti proviamo un po di tutto e vediamo se effettivamente 50 calò è così buona da quanto rinomata allora io le chiedo un po di tutto una crocchè una frittatina un supplico la crema di parmigiano le montanarie mignon da fare tanti assaggini facciamo una mignon e così alla madonna allora da fare tanti assaggini faccia lei la montanarina quella che pensa che sia meglio e poi io le chiedo sono venuto principalmente per una bufala che mi ha detto che qua avete una buona bufala e per adesso basta poi magari prendiamo dopo speriamo buona allora questo in teoria dovrebbe essere il supplì bomba prima di mangiare un risotto parmigiano fritto quindi se il risotto è buono questa è una bomba questo è il crocchè col salame buona assai molto sfiziosa la mia prima peccatina di napoli buona questa è la loro montanarina guarda che bella struttura che ha buona com'è? questo parmigiano mi ricorda la pasta che mi faccia al mio zio e ma cosa dici della pizza? come tutto quello che mi ha mangiato qua stra calorico stra fritto stra condito ma sarà leggero ne mangeresti a parte l'impasto che è leggerissimo e sarà asciutto è buona la passata di pomodoro e il parmigiano gli da quella nota di pasta al sugo della domenica pazzesco gli avevamo chiesto la bufala abbiamo fatto confusione eravamo usciti con l'idea di non mangiare pizza ma sta finendo schifio e dopo quella fritta abbiamo fatto downgrade bello che avevamo detto non mangiare pizza non mangiare pizza io gli ho detto voglio una buona mozzarella di bufala abbiamo fatto la cipenzia ah pazzerò i shishki cipenzia però effettivamente dicono che la pizza di 50 calor è buona sentimmo la pizza di 50 calor è buona c'è un ma quando fai quella affaccia lo so che c'è un ma hanno messo un olio molto robusto è forte eh? molto forte eh? pizzica quasi vabbè è un olio molto robusto e vi dico la verità che è buonissima come pizza favolosa cioè che arriva quella che abbiamo mangiato ieri ai masanielli non ne abbiamo sentite però è molto buona l'unica pecca è l'olio molto robusto noi cercavamo una buona babbaberia qua hanno i babbà della pasticceria Capparelli che a quanto dice Google è la prima la miglior pasticceria dove mangiare babbà come che bestie che è è grande quanto è grande quando eravamo a scuola che abbiamo fatto i babbà lo chef aveva detto che il babbà deve essere inzuppato di bagna non deve rilasciare la bagna ma deve essercene non deve essere né troppo asciutto né troppo bagnato e il babbà è stata la prova su cui ho subito l'unica insufficienza barabocciatura in tutto il percorso quindi non sarebbe uno dei più buoni di Natale è molto buono però c'è sempre pochissimo non c'è tanta bagna la bagna è molto delicata è molto aromatica non è molto alcolica molto buono molto delicato voto 8,5 allora abbiamo affernuto ho pranzo da 50 calò voto che voto gli dai? considerate che ero venuto qua per la mozzarella o in generale? per tutto allora abbiamo speso totale 43 euro 43 euro che obiettivamente 21 euro e 50 a testa ci sta per quello che abbiamo mangiato ci sta forse è il posto più economico dove abbiamo mangiato e qualitativamente era alto perché i tre antipasti venivano 2 euro l'uno il babà costava 6 euro però abbiamo mangiato le stuzzicherie costavano niente le stuzzicherie costavano pochissimo abbiamo mangiato 2 euro ogni cosa la pizza margherita con la bufala che vabbè doveva essere una bufala ma va bene l'acqua, la coca, tutto quanto alla fine secondo me 20 euro per tutta sta roba è più 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 che onesto visto la qualità visto il target visto il posto visto la nomea e visto la fila che ha il locale adesso c'è rimasto teoricamente ma io sto rotolando cos'è che c'è rimasto? la sfogliatella e la mozzarella di buca e cazzo una mozzarella di bufala però la cosa è che è pomeriggio sono le tre noi siamo sul lungomare di Mergellina e non abbiamo la minima idea di dove andare ma soprattutto sto rotolando detto ciò io gli do un bel otto e mezzo facciamo nove perché abbiamo avuto culo anche a non trovare fila abbiamo parcheggiato i nostri boliti sul lungomare di Mergellina e visto che nel box mi avete consigliato di andare da casa infante caffettino e sfogliatella riccia da casa infante voi ci hanno portato una bella sfogliatella da dividere in due che stiamo scoppiando il caffè l'acqua che è un servizio adoro nonostante c'è il biscottino e per papa la ricotta e arancia candita penso giusto? no questa è dieci volte meglio di quella che abbiamo preso il primo giorno che l'abbiamo presa in un bar davanti alla stazione che era molto turistico e non era male ma questa la base è quella la parcitura è molto 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 buona io non sono abituato a mangiare così tanto e così spinto e sto sto facendo un pieno stasera niente pizza forse la maronna se trovo una mozzarella di bufala buona la aggiungo al vlog, al video, l'assaggio me lo auguro se così non dovesse essere io direi di chiudere qui il video di ringraziarvi terribilmente per l'attenzione che mi avete dedicato vi invito ancora non l'avete fatta iscrivervi al canale accendendo la campanella lasciare un mi piace commentare scrivendomi con qual è la tipicità che mi sono perso così da tornare in un secondo momento e riassaggiarla ma soprattutto qual è la tipicità che ha colpito di più voi il prodotto tipico la specialità di Napoli che più vi è rimasta nel cuore noi ci vediamo alla prossima bella